Manic stavolta, siamo di nuovo in presa diretta con la conclusione, la rete del nuovo entrato Alex Pedone che gol spettacolare, al volo la conclusione del centrocampista di Dolcetti 2-0 per il Milan, è festa sulla panchina rossonera, Jacopo Sì esatto ed è venuto subito a ringraziare il mister Dolcetti che lo aveva appena fatto entrare così come Petagna che era proprio sulla riga dell'out perché è pronto ad entrare anche lui, il Milan cambia ancora